musica musica e poi il dito e vediamo perché è un po' eh il dito devi insistere col dito via eee orco cane ahahah ahahah come va? ahahah lui bene ahahah 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 mi fai furiazzata aspetta che non c'è aspetta che non c'è aspetta che non c'è dai noi begniamo poi perchè si è semplicato no no ancora ancora ahahah ha perso l'adhesivo nooo l'adhesivo ebbene condizioni sono provanti eh ahahah 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 ok ahahah Grazie a tutti. Ebbene, nella prima giornata di mare è andata.